Mi ha tirato il personaggio che non è un eroe, però è un personaggio molto coraggioso che ha cercato di collaborare con la giustizia non per una sua conversione ma perché è stato costretto delle circostanze. Gli avversari mafiosi stavano uccidendo tutti i suoi parenti e quindi non avevano altro scampo se non questo.